Come ci siamo venuti ogni anno e siamo sempre più felici di venire perché in questa esibizione abbiamo un contatto con molti paesi, anche in Dubai abbiamo un contatto con persone dall'Iran, dall'Iraq, dall'Egypte, dall'Iria, dall'Ostria dall'Ostria, dall'Ostria e questo è un punto molto importante. ADAC è un punto nel mondo dove dovete stare, se non avete un internazionale business.